è iniziato tutto circa 45 anni fa mio padre io e mio fratello iniziamo la nostra collezione con la prima macchina una mazda cosmo che compramo negli stati uniti dopo alcuni anni prendiamo un altro modello e poi ancora lo spazio era sempre stato un problema prima compramo un piccolo garage dove semplicemente parcheggiavamo le auto e poi 15 anni fa iniziamo a desiderare una sala dove allestire le vetture in un modo migliore rispetto al semplice parcheggio quindi 12 anni fa parlamo con l'amministrazione di augusta per trovare qualche area adatta 9 anni fa potevamo comprare quest'area e l'edificio dove prima c'erano i tram della città pensiamo che fosse il luogo migliore nel quale aprire un museo prima lo desideravamo solamente per noi e la nostra collezione ma dopo aver ristrutturato decidemmo di aprirlo a tutti abbiamo aperto da tre anni e sta andando molto bene e molto divertente per tutti mio fratello mio padre e me siamo concessionari mazda naturalmente abbiamo iniziato nel 1978 in particolare mio padre ha iniziato a mazda perché era già in programma la produzione del motore rotativo e lui ne era assolutamente affascinato questa è senza dubbio la principale ragione lui vide la sua prima auto classica quando aveva 16 anni e abbiamo ereditato questa passione da lui così abbiamo iniziato a collezionare mazda quest'auto è davvero molto importante per me e per mazda perché rappresenta all'inizio della produzione di vetture per la casa era il 1960 mentre questo esemplare del 62 è la seconda macchina della nostra collezione e la storia su come l'abbiamo trovata ed è molto divertente quando collezioni auto classiche devi parlare incontrare varie persone un amico vide su un giornale un annuncio vecchio di due anni con le foto della macchina in australia mio padre aveva vissuto lì 15 anni fa così disse ok la prendo chiamai il venditore per parlargli e mi disse che aveva ancora l'auto dopo due anni gli abbiamo chiesto se la volesse ancora vendere e ci disse naturalmente il prezzo era giusto gli chiedemmo in che condizioni si trova e lui rispose è nelle condizioni migliori al mondo sistemammo tutti i documenti e la spedizione l'auto arrivò e il motore era distrutto la testata i pistoni erano rotti tutti gli interni mancavano e anche alcuni pezzi della carrozzeria era in una condizione folle mio padre richiamò il venditore gli chiese cosa è successo avevi detto che era nelle migliori condizioni al mondo e lui rispose ne hai mai vista una in condizioni migliori prima di oggi in fondo è una storia divertente l'abbiamo restaurata come la vedete ora ed è esattamente come era una volta qui abbiamo la mazza road pacer è un'auto divertente perché ha l'aspetto di una vera mazza ma in questo periodo nel 1975 la casa non aveva una vera grande auto quindi fecero un accordo molto interessante comprarono lo chassis dalla olden lo fecero spedire in giappone ci misero sopra un motore rotativo e così nacque la mazza road pacer ne produssero solamente 800 quindi ora è davvero molto rara è bello averla e anche lei ha una storia divertente su come ce la siamo procurata mio fratello la vide su ebay australia ero al computer e feci l'offerta migliore quello che non sapevo però è che se un oggetto così arriva dall'australia il venditore può comunque decidere se spedirla o meno in europa e lui disse no quindi avevo vinto l'asta ma non voleva spedirla due anni dopo e qui viene la parte divertente mio padre ricevette una telefonata da un tipo in nuova zelanda disse da noi ci sarebbe un'auto e sappiamo che sei un collezionista sappiamo che non ne hai una simile e la devi comprare ok strana telefonata venne fuori che il tipo aveva vinto l'auto due anni prima all'asta ed era un collezionista con circa una cinquantina di auto ora però aveva incontrato una nuova ragazza e lei gli aveva detto se tieni queste auto me ne vado quindi la sua decisione fu di vendere tutte le auto non sono sicuro che fosse la decisione migliore lui sapeva della vendita e quindi ci telefonò ma perché ci conosceva aveva parlato anche con maz da nuova zelanda sua moglie era una ragazza alla pari qui ad augusta e in un viaggio vide la nostra collezione sapeva quali auto avevamo e quali no ora è un amico è venuto altre due volte e vuole sempre vedere l'auto è stato molto importante perché fece tutti i documenti in nuova zelanda una bella storia per l'auto che è arrivata da più lontano e Grazie a tutti.